Infiltrazioni di aria fresca in quota mantengono condizioni di stabilità anche nelle prossime ore. Da venerdì a domenica alta pressione a tutte le quote e conseguenti condizioni di stabilità atmosferica. In Toscana giovedì 28 luglio inizialmente sereno salvo nubi basse sul medio basso Valdarno in dissolvimento. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità comuniforme associata a temporali sparsi localmente di forte intensità venti deboli variabili mari poco mossi temperature senza sostanziali variazioni un lieve calo le massi. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso a nuvoloso con piogge locali temporali nel pomeriggio a Lucca e sulla Piana temperatura minima 20 massima 35 gradi in Versilia sul litorale minima 21 massima 26 in Garfagnane zone montane minima 16 massima 29 gradi tempo più stabile soleggiato da venerdì e in generale nel fine settimana.